ciao a tutti ragazzi in questo video recensirò i fumetti 3d collection che è un attimo le due forbici 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 fascicolo fumetti 3d collection pezzi numero 4 poi il modellino poi apriamolo l'ho pagato 10 euro e 99 allora l'autore il personaggio allora l'autore il personaggio gli amici e nemici questo è il fumetto dietro c'è tezza la prossima uscita è mister no allora l'aquila della notte sopra è Gianluigi Bonelli Gianluigi Bonelli qua un po' di cose di tezza mister no nella prossima uscita ma tanto il numero 5 deve essere figo non so perché scrivetemelo nei commenti allora passiamo al modellino che è infacchettato ora lo apriamo insieme con il nostro ecco questo è pezzo ora lo apriamo da qui ecco questo è il fucile capello capelli maglia camicia fazzoletto cintura cristole pantaloni stivali la roccia e la base ho qui la faccia qua sotto niente e bene ci vediamo nel prossimo video molto bello bene ci vediamo